Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie. Dopo aver abbandonato il grande fratello per un grave lutto familiare, Marco Maddaloni si apre sulle sue emozioni e riflessioni legate al reality. L'ex concorrente, noto per le sue partecipazioni a Pechino Express e l'Isola dei Famosi, ha lasciato il programma a poche settimane dalla fine, un gesto compiuto per sostenere sua moglie durante un momento doloroso. Nel corso di un'intervista recente con il programma Non Succederà Più, Marco ha espresso ammirazione per Beatrice Luzzi, definendola la mattatrice del programma. Beatrice è stata una presenza costante e incisiva dal principio alla fine del reality. Anche lei ha affrontato un lutto, ma ha scelto di rimanere nella casa. «Rispetto profondamente la sua decisione. Ognuno vive il dolore a suo modo», ha spiegato Marco. Nonostante la sua partenza anticipata, Maddaloni guarda indietro con affetto all'esperienza vissuta. È stata un'avventura nuova e entusiasmante, con un epilogo un po' triste, ma così va la vita. Non pensavo alla vittoria. Il mio obiettivo era diverso. Voi cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti. Grazie mille per essere stati con noi oggi. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale per rimanere aggiornati con i nostri contenuti. Attivate anche la campanella delle notifiche per non perdervi neanche un video. E se siete interessati a ulteriori contenuti simili, date un'occhiata a questi due video.